Abbiamo sentito degli urli e niente, mi sono affacciato e sto sceso. E' venuto l'istinto da scende, abbiamo visto questa ragazza accorciata col fedele sulla ringhiera. Naturalmente sono andato su con una lastra per aprire la porta, l'ho trovata bloccata, sono andato sul terrazzo e l'ho vista che uscita fuori dalla ringhiera. Niente, l'istinto mi è venuto da buttarmi giù e ringraziando sempre la Madonna che l'ho chiappata e l'ho ritirata dentro, è venuta dietro a me e si è salvata. L'importante è che tutto è bene e ripeto, il dolore passa. Gli avete fatto male alla gamba? Eh sì, si è rotto qui la caviglia, mi hanno detto da 15-20 giorni e in braccio c'è il dolore, però è il dolore con un po' di antidolore libico. Ne passi, tutto il resto, lo portavi al vento.